Con una prova maiuscola, la Lazio batte 4 a 0 il Mila all'Olimpico e aggancia il terzo posto in compagnia di Inter e Roma, a un solo punto dai rossomedi secondi. Pronti via, al quarto la Lazio e avanti, cross Zaccani, velo 2 Alberto per il sinistro vincente di Milinkovic Savic, rossoneri in difficoltà e biancoletti, celesti raddoppiano, pedo in becca Marusic. Palo sulla ribattuta, Zaccani mette in rete, trentottesimo, nella ripresa c'è Tris, Lazio sul rigore, Tomori a terra pedro, al di schermo, Luis Alberto fa 3 a 0, 67, Felipe Anderson al settantacinquesimo, filma il definitivo, 4 a 0. Diavoli al tappeto, fa festa la squadra di Sarri, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao